Buonasera, tra qualche istante in diretta il nostro DGA, apertura dedicata all'ondata di maltempo che sta interessando in queste ore la nostra regione e continua a creare veramente tanti disagi. Poi vi parleremo del ministro Lanzetta che conferma non sarò in giunta, questo e tanto altro ancora. La violenta mareggiata che sta interessando il litorale tirrenico Cosentino ha già prodotto i primi danni, danneggiata una struttura turistica tra Belvedere e Diamante. Il sindaco annuncia e chiederemo lo stato di calamità. Nessun ripensamento per l'ex ministro Maria Carmela Lanzetta che conferma la scelta di non entrare a far parte della giunta di Oliverio. Tornerò, dice, al mio lavoro di farmacista a Monasterace. Tra gli sprechi della regione Saltafuori che nel 2013 è stato acquistato, un software per gli screening oncologici costato oltre un milione di euro ma al momento fuori servizio. Intimidazione o rivalità tra gruppi di carristi, mentre le indagini vanno avanti nel capannone di Amantea, il lavoro non si ferma, le associazioni impegnate nella realizzazione dei carri allegorici non si fanno piegare. Dieci chili di cocaina sequestrati sulla trene ai pressi di Lauria, arrestato il curriere, si tratta di un 39enne della Locride. Vibo merita un teatro comunale, l'appello di una ballerina che denuncia la chiusura della struttura inutilizzata da ormai 20 anni. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, il Cosenza punta al successo anche in campionato. Domani Rosso-Blu in campo ad aprile contro la Lupa Roma, qualche acciacco di troppo per la squadra di Rosselli. Buonasera e bentrovati a quest'edizione del nostro Tg, lo avete sentito dai titoli l'ondata di maltempo in primo piano che sta interessando in queste ore la nostra regione continua a creare disagi. Oltre alla pioggia anche il vento e le violente mareggiate stanno flagellando la costa tirrenica Cosentina. Damantè ha messo a rischio la tenuta delle infrastrutture viarie per la forza delle onde. La statale 18 tirrenica all'altezza di Campora San Giovanni stanno cedendo anche lembi di strada. Tra Belvedere e Diamante le onde alte, pensate 5 metri, hanno danneggiato alcune infrastrutture. Il sindaco di Diamante chiede lo stato di calamità naturale. Ci racconta tutto Anna Franchino. Ecco quello che resta di uno dei più famosi ritrovi della costa tirrenica Cosentina. Il lido di sabbia d'oro è stato completamente distrutto dalla mareggiata che in queste ore sta interessando la costa calabrese. Onde altri circa 5 metri hanno inghiottito l'arenile e minato le fondamenta di questa struttura. Ma anche le recinzioni di pietra e state per contenere la forza del mare hanno ceduto. Quello che resta è un panorama desolante soprattutto per gli imprenditori che investono in questo tipo di strutture e che oltre alla crisi devono fare i conti con i danni prodotti dal maltempo. Un'altra tegola per questi imprenditori turistici, oltre alle nostre infrastrutture pubbliche, l'ultima volta che ricordi tantissimi anni fa e stiamo aspettando che si realizzi questa difesa costiera che un progetto della Regione Calabria ha già appaltato e quindi speriamo che con questo intervento possiamo mitigare quello che è il rischio inondazione, quindi il rischio del mare che fa tutti questi danni. Il prato è stato letteralmente inghiottito dal mare, la piscina realizzata artificialmente è andata distrutta e quello che resta è una terrazza in milico sulla costa che non potrà reggere a lungo visto che le previsioni non portano nulla di buono. Il vento forte e le mareggiate tengono da ieri sotto scacco la zona del Tirreno Cosentino. Ora si fa la conta dei danni, sperando che la lista non si allunghi con il passare delle ore. Adesso stiamo comunicando dove sono avvenuti i danni, poi si faranno le stime sia il pubblico che il privato e manderemo alla protezione civile regionale la stima dei danni che abbiamo subito in questo territorio. L'allerta meteo diramata dalla protezione civile sulla zona del centro-sud interessa soprattutto la Calabria, inserita nelle criticità arancioni e il sindaco di Diamante chiede al governatore Oliverio lo stato di calamità naturale. Ci faremo portavoce presso la regione Calabria per dichiarare lo stato di calamità e quindi venire incontro a questi imprenditori che già hanno difficoltà proprie e adesso si è messa anche la calamità naturale. Quello che abbiamo appena visto era il sindaco di Belvedere non di Diamante. Allora ritorniamo al nostro DG, l'ex ministro Maria Calmera Lanzetta conferma che non entrerà nella nuova giunta della regione Calabria guidata dal democratico Mario Oliverio. L'ex esponente della governo Renzi ha confermato la volontà già annunciata nei giorni scorsi di non voler entrare a far parte della giunta regionale della Calabria rinunciando così alla nomina di assessore regionale. Quanto ai motivi di rifiuto l'ex ministro non ha commentato ma proprio due giorni fa la Lanzetta aveva dichiarato in merito che non ci sono le condizioni di chiarezza sulla posizione dell'assessore Nino De Gaetano. Tra gli sprechi della regione Saltafuori che nel 2013 è stato acquistato un software per gli screening oncologici costato oltre un milione di euro ma al momento fuori servizio. Vediamo. Gli sprechi, le incongruenze, le pollie gestionali nella sanità calabrese sono un pozzo senza fondo e se ormai non meravigliano più, e lo diciamo con amarezza e rammarico, le disfunzioni negli ospedali e nelle strutture sanitarie per carenza di personale, se non meravigliano più i tagli alle prestazioni, se non meravigliano più le mega consulenze, beh, qualche petto la denuncia di Fabrizio Muraca, ex presidente dell'Asi di Lamezia, candidato alle scorse regionali con la lista Oliverio Presidente, lo fa. Perché sentire che la regione ha comprato un software per gli screening oncologici sborsando circa un milione e duecentomila euro e che questo dispositivo non funziona o funziona male, beh, quantomeno indigna. Sia per l'inutile spreco di risorse, soprattutto se si pensa a quante carenze si verificano quotidianamente nei servizi sanitari per le difficoltà di bilancio, sia perché non funzionando non si raggiungono gli obiettivi che significherebbero premialità da parte del Ministero, oltre che una banca dati importante ed efficace per la prevenzione. Il software è stato acquistato dal governo Scopelliti nel 2013 dalla regione Piemonte per ottimizzare con un sistema informatico unico regionale la raccolta ed elaborazione dati relativi agli screening per alcuni dei tumori più diffusi e complessi, carcinoma della mammella, del colon, della cervice uterina, screening che sono compresi nei livelli essenziali di assistenza. Ebbene, l'acquisto, come spesso accade, è stato fatto senza tener conto della situazione e dei risultati. Si è comprato il programma e poi poco importa se non funziona. Le difficoltà riscontrate subito dai responsabili screening delle aziende sanitarie provinciali, come evidenzia anche Muraca, non sono roba da nulla. Intanto il server è in Piemonte e quindi i dati inseriti devono andare lì e poi da lì al Ministero, con ritardi ed incompletezze che stanno penalizzando la sanità calabrese. La magrafe degli utenti non è aggiornata. Ci sono ritardi negli esiti dei test. Insomma, tante lacune che evidenziano l'impelicità della scelta, ma soprattutto il fatto che in alcune aspe questo ha determinato un rallentamento o il blocco negli screening. Da qui l'appello di Muraca d'Oliverio di affrontare subito la questione. L'incendio ha piccato nel capannone di Amantea, dove quattro gruppi di carristi stanno preparando le loro creazioni per il carnevale. Non ha fermato l'organizzazione della chermessa e che avrà inizio il 15 febbraio. Indagini in corso per individuare gli autori del gesto. Ci racconta tutto Gianluca Pasqua. Ieri mattina ci hanno chiamato un dipendente del comune di Amantea che vedeva un po' di fumo che usciva dal capannone. Siamo subito intervenuti. Abbiamo visto che bruciava il quadro elettrico del capannone dato in gestione del comune di Amantea al comitato Giuseppe Brusco. e poi c'erano delle tavole, c'era una piccola fiammella e siamo intervenuti subito. Erano le 9, le 9 meno 5, abbiamo spento il fuoco. C'era una porta che era un pochettino, diciamo, messa giù per terra. Chi voleva fermare il carnevale di Amantea ha sbagliato strategia. Le fiamme hanno solo rallentato la realizzazione di uno dei carri allegorici che comunque riuscirà a sfilare già domenica 15 febbraio e nei giorni successivi e se anche non vincerà il concorso tra le associazioni, sarà di certo il più osservato. Salvatore Colla, presidente dell'associazione Giuseppe Brusco che organizza la Kermess, ha appena aperto le porte del capannone. All'interno si sente ancora un forte odore di bruciato, ma il quadro elettrico dato alle fiamme dai gnoti è stato già ripristinato così come gli estintori e tutto ciò che serve per garantire la sicurezza. Presto saranno posizionate anche telecamere di videosorveglianza. Nessuno sa darsi una spiegazione di quanto è avvenuto. Non lo sappiamo, sarà stato qualche altro randato, non possiamo... Penso che non dovrebbe dare pastiglio a nessuno perché sono molti giovani che rientrano nel capannone a lavorare, a realizzare i propri gioelli, quindi il carnevale, secondo la mia opinione, porta anche economia per la nostra città perché sono tre giorni di spiumate. I carabinieri indagano sull'incendio che ha rischiato di mandare in fumo il lavoro e la fantasia dei giovani diamantea. Il sindaco Monica Sabatino, che nel mese di ottobre aveva a sua volta ricevuto un'intimidazione, ha fatto sentire la propria vicinanza alle associazioni, invitandole a proseguire nelle iniziative. Chiunque è stato ha fatto male i suoi conti perché quella che è stata la reazione che si è sviluppata è stata una reazione contraria, quindi la volontà di andare avanti e di andare avanti in modo più compatto e in modo più creativo, se vogliamo. Per il primo cittadino, la chiave di lettura dell'episodio non è da ricercare esclusivamente nell'ambito della criminalità. Io non lo so cosa significa. È comunque una stupidaggine fatta da chi aveva in mente probabilmente di fare un dispetto ai carristi, di fare un dispetto al carnevale. Intanto i gruppi sono al lavoro, in anteprima vi mostriamo le prime creazioni in cartapesta che poi vedrete sfilare per Amantea, la Statua della Libertà, la Torre di Pisa che faranno parte del caro denominato Around the World, le strutture dei carri Pirati dei Caraibi e Pippi Calzelunghe e poi quel che è rimasto del Paese dei Balocchi, la raffigurazione di Beppe Grillo è andata distrutta, come quella di Giorgio Napolitano. L'ingegno ha preso solo questi due personaggi, quello è Grillo, non c'è rimasto solo due ferie. Questo è Napolitano, ci mettiamo al lavoro e cercheremo di recuperare. Adesso magari sarete in tempo per sostituire Napolitano con il nuovo presidente. Ci pensiamo, ci pensiamo su e vediamo. Nel prossimo servizio le immagini dell'ingente quantitativo di cocaina sequestrato sulla Treni di Presti di Lauria, 10 kg di polvere bianca del valore di oltre 2 milioni di euro. Vediamo. Ecco l'ingente quantitativo di cocaina sequestrato dalla Guardia di Finanza sulla A3 nei pressi dello svincolo di Lauria Sud. Ben 10 kg di polvere bianca, pura al 75%, dalla quale si sarebbero potute ricavare 50 mila dosi, valore 2 milioni di euro. Le fiamme gialle hanno arrestato il Corriere della Droga. Si tratta di un 39enne della Locride. Questo imponente quantitativo di stupefacenti era destinato al mercato calabrese. Sicuramente sono ipotizzabili collusioni e corresponsabilità di altri soggetti. Per cui poi parte da ora, partono indagini doverose, necessarie, difficili, di quanto si voglia, ma comunque importanti per cercare poi di analizzare, di capire da dove provenisse, da dove era diretta e tutte le persone che fanno parte di questa filiera di illegalità destinata allo smercio di tale sostanza stupefacente. La droga era nascosta nell'auto, nella cavità dei pannelli degli sportelli posteriori. Il trafficante aveva utilizzato anche un ulteriore accorgimento, quello di circondare gli involucri di stupefacente con dei sacchetti di polvere di caffè. Questo è un espediente normalmente utilizzato nel tentativo di ingannare il fiuto delle unità cinofile. Sugli involucri di cellofan, in cui la cocaina era nascosta, c'era il simbolo di un ananas, segno distintivo dell'area di provenienza dello stupefacente, in questo caso la Colombia. E adesso un appello, l'appello di una ballerina che denuncia la chiusura della struttura inutilizzabile da ormai 20 anni. Naturalmente siamo a Vibo. Lo stato di degrado in cui è crullata la città di Vibo, Valenza, è ormai un fatto acquisito dall'intera opinione pubblica e ciò a dispetto di una storia di un patrimonio storico architettonico che cerca di resistere all'incuria e all'indifferenza. Ma per i vibonesi c'è un cruccio, questo sì storico, che li assale da decenni, la mancanza di un teatro. Fino ai primi anni 90, Vibo Valenza annoverava una delle stagioni teatrali più seguite della regione, poi la chiusura del teatro Valentini ha privato la città di una struttura adeguata, considerato che lo storico teatro, il cosiddetto San Carlino, era stato distrutto per volontà degli allora amministratori negli anni 60. E da soffrire di questa mancanza sono tutti i vibonesi, soprattutto i giovani. A farsi portavoce di questo malessere una giovane danzatrice, Emanuela Cortese, vibonesi di 25 anni, sta coltivando la sua passione e conseguendo significativi risultati in giro per l'Italia, ma se può tornare nella sua città non solo lo fa volentieri, quanto soprattutto lo vuole, sognando di poter rappresentare la sua arte proprio qui. Ed Emanuela Cortese ha commosso i vibonesi, rinvigorito la loro voglia di riscatto con brevi frasi che possono rappresentare un vero e proprio manifesto della riabilitazione culturale della città. Il mio sogno sarebbe riavere il teatro che avevamo qui a Vigo Valenza, quindi portare avanti la cultura, l'arte, quindi non solo la vita, ma anche la vita. Mi piace essere giovane, mi batterò per questo. Infatti il mio sogno è proprio ritornare nella mia città e credo a breve di aprire una scuola di danza proprio per far vedere a Vigo cos'è l'arte e che alla fine il vero professionista esce sempre il cuore, sempre e comunque. Quindi, niente, promuovere l'arte nella mia città è il mio sogno più grande, è il teatro. Questo perché è triste per un artista, un avanzatore, un musicista, riponese al calabrese, potersi esibire in tutta Italia e anche all'estero e non poterlo fare nella propria terra perché mancano appunto le strutture. Avviata la collaborazione economica tra Catanzaro e Betlemme, il gemellaggio tra le città siglate alla presenza del sindaco palestinese, il patto in occasione del settantesimo anniversario della Fondazione Betania che nel capoluogo continua a derogare servizi di sanità privata nonostante la difficoltà. Sentiamo Rosalba Baldini. Le note struggenti del violinista Salvatore Quaranta della Filarmonia di Milano a sottolineare due terre lontane in continua lotta contro il destino e il futuro. Il gemellaggio tra Betlemme e Catanzaro siglato nella città capoluogo alla presenza del primo cittadino di Betlemme che è una donna vera babbun. La stessa ha puntato l'indice sulla politica mondiale che permette a detto l'apartheid di interi popoli come il mio. Eppure Betlemme è la culla della cristianità, il luogo in cui Gesù è nato. Più di duemila anni non sono bastati per liberare dalla povertà la gente di Betlemme. Il tempo che scorre complica la realtà. Così accade che la Fondazione Betania, di cui è presidente di un viaggio amato, struttura fino a qualche decennio fa d'eccellenza, fiore all'occhiello della sanità privata di Catanzaro, oggi è in grave difficoltà economica a rischio chiusura. Due realtà fragili che comprendono cosa vuol dire resistere e non mollare. Sanno quanto sia arduo amministrare quando non ci sono i soldi e le sinergie istituzionali. Il gemellaggio allora tra Catanzaro e Betlemme va oltre la manifestazione pubblica e pone le basi di una collaborazione che nell'alleanza prova a rafforzarsi a partire dalla non scontata collaborazione economica che mette in contatto paesi lontani e vicini nel sentire che provano a rialzarsi. L'assessore allo spettacolo del Comune di Cosenza, Rosaria Sucurro, applaude al partenariato pubblico privato realizzato per il cartellone di Rendano in prosa. Una sinergia che funziona. Vediamo. E' partita col piede giusto la stagione di prosa del Teatro Rendano che si è potuta realizzare grazie alle sinergie che l'amministrazione comunale è riuscita a stabilire con un gruppo di promoter e imprenditori dello spettacolo. Si è appena spenta l'eco della lirica con un meraviglioso successo che ha portato il teatro ad essere pienissimo in tutti e sei gli appuntamenti della stagione lirico-sinfonica ed è appena iniziata invece la stagione di prosa con una nuova scelta da parte dell'amministrazione che è quella di una partnership pubblico-privato. I primi spettacoli hanno fatto registrare il sold out per cui possiamo dire che anche questa nuova versione di partnership non può che essere gratificante per l'amministrazione ma soprattutto per i tanti cittadini, non solo cosentini ma provenienti dall'intera provincia e anche fuori che apprezzano la qualità artistica del Teatro Rendano. Oltre a Rendano non dimentichiamo che Cosenza ha anche altri teatri come il Morelli. Con una stagione di teatro contemporaneo ormai presente da più anni grazie a Scena Verticale e alla Residenza Teatrale la quale non solo ha avviato un percorso importante teatrale con i suoi venerdì anche lì sempre sold out ma una serie di laboratori molto partecipati non ultimo quello che a breve inizierà proprio sulla regia e su questo meraviglioso mondo che è la registrazione delle immagini. E come scordare la presenza importante del Cine Teatro Italia a Roldo Tieri. Da sempre attenzionato dalle associazioni, dalle associazioni del territorio dalle commedie e dalle iniziative, dagli spettacoli in vernacolo, dalle scuole e non ultimo anche la presenza di convegni e manifestazioni varie. Una grande offerta culturale quella della città di Cosenza che parte dai teatri ma che abbraccia tante altre strutture la Casa delle Culture, il Museo dei Bretti e degli Enotri la Biblioteca Civica, il Museo della Provincia, l'Accademia Cosentina. Ed ora il calcio di Lega Pro negli anticipi il Catanzaro ha battuto il Melfi per due reti a uno la Vigor Lamezia ha pareggiato a Salerno per due reti a due invece la Regina sta perdendo in casa uno a zero contro il Lecce invece il Cosenza giocherà domani ad aprile contro la Lupa Roma. Sentiamo Anna Franchino. La Coppa Italia doveva essere l'occasione per dare una chance a chi sta giocando meno nel Cosenza di Roselli ma la buona prestazione contro la Juve Stabia e gli acciacchi di alcuni giocatori fin qui impiegati a pieno regime potrebbero portare il tecnico Umbro a schierare la formazione antilupa Roma pescando proprio dall'undici che ha raggiunto la semifinale con il Ponte d'Era. Potrebbe essere il caso di De Angelis mattato realmente ed indiziato numero uno a sostituire Elio Calderini non al meglio della condizione nuovo stop per Nicolo Sperotto che necessita di riposo e riabilitazione per un malanno muscolare mentre si attendono buone notizie da Cristian Caccetta al quale Roselli potrebbe riaffidare le chiavi del centrocampo al Quinto Ricci di Aprilia. La sfida è di quelle determinanti per la classifica ed il morale la gara d'andata segnò uno dei punti più bassi della stagione rosso-blu una sconfitta senza attenuanti per il Cosenza di Cappellacci che assomigliò tanto ad un Arachiri gli avversari non attraversano un periodo eccellente la partenza di Perrulli finito nella Salernitana li ha privati di estro ed esperienza ma non della grinta che ha permesso loro di cogliere due pareggi pesanti con Messina e Paganese ecco come nella conferenza stampa che ha preceduto la partenza per il ritiro romano mister Roselli ha presentato la sfida tra Lupi e Lupa La Lupa Roma ha avuto un calo quando è andato via Perrulli e ancora non avevano preso nessuno invece adesso hanno preso Testardi, hanno preso altri paio di giocatori dunque la Lupa Roma, ho visto con la Paganese ha meritato di pareggiare e ha fatto molto bene ha rimontato all'ultimo secondo con il gol del portiere con il Messina due volte e dunque è una partita difficile è una partita a spareggio, una partita a scontodiretto è importante fare risultato non perdere perché io credo che alla lunga poi noi qualche squadra di quelle che sono lì con noi dobbiamo assolutamente mettere sotto anche se ripeto siamo tutti alla pari come vedete al di là del punteggio per un periodo grosso Cosenza è stato nel gruppetto delle ultime quattro come sapete adesso siamo nel gruppetto tra la quinta e la sett'ultima questo è il nostro campionato lo sappiamo, lo conosciamo se siamo tutti uniti e tiriamo dalla stessa parte abbiamo molto più possibilità di farcela E sabato, come ogni sabato la nostra rubrica sull'economia Le strategie dell'amministrazione finanziaria in materia di lotta all'evasione in particolare dell'IVA sono ormai chiare e cioè lo scopo, l'obiettivo finale è quello di evitare che l'ultimo imprenditore della filiera produttiva possa ingamerare l'IVA e non pagarla e così si sono inventati o ampliati e fortificati dei sistemi previsti dall'ordinamento che passano sotto il nome di reverse charge o inversione contabile oppure di split payment cosa succede in effetti? Succede che per alcune categorie di imprenditori l'IVA non viene addebitata nel senso che poi sarà diciamo l'ultimo della filiera ad integrare la fattura indicando l'IVA a debito sulla stessa e in effetti non versandola al proprio fornitore questo è il caso dell'inversione contabile che dal primo gennaio del 2015 è stata estesa a numerose attività come per esempio quella della vendita e installazione di impianti elettrici o impianti in generale d'altra parte debutta nel nostro ordinamento un'altra forma diciamo di regolamento di quella dell'IVA chiamata split payment ed è una cosa che è riservata a tutti i fornitori della pubblica amministrazione quindi chiunque vende bene i servizi allo Stato o alle altre amministrazioni l'IVA non la incassa più perché la singola amministrazione poi la versa direttamente allo Stato che succede a queste categorie di imprese finiscono a credito con l'IVA dovranno aspettare i tempi biblici dei rimborsi o ancora peggio andare in banca a chiedere un aiuto che certamente verrà loro negato dall'economia al meteo con le previsioni del tempo ben ritrovati da cosenzameteo.it lo scenario europeo è caratterizzato da un imponente movimento verso sud di un lobo del vortice polare favorito anche dalla forte azione di blocco alle correnti occidentali polari esercitato dall'alta Zorriana tale discesa ha creato una bassa pressione al suolo sull'Italia che sta apportando forte maltempo anche sulla nostra regione dalle immagini radar della protezione civile riferite alla giornata di ieri inoltre si possono osservare sia le prime piogge precedenti il fronte sull'alto tirreno cosentino della notte fra giovedì e venerdì sia quelle dovute all'irruzione del fronte freddo vero e proprio avvenuto verso le ore 16 con l'avanzamento di quella vera e propria linea temporalesca in sovraimpressione vediamo adesso come evolverà questo maltempo per le prossime 48 ore domani nuvoloso sui versanti tirrenici con piogge anche a carattere temporalesco e nevicate che durante il corso della giornata si stabiliranno oltre i 900 millimetri su Sila Pollino e Catena Costiera Cosentina oltre i 1100 metri sulle serre Vibonesi e la Spromonte altrove poco parzialmente nuvolosa senza fenomeni significativi temperature in calo nelle medie del periodo diamo adesso un'occhiata allo stato di mari e venti domani il tirreno sarà agitato lo Ioni invece sarà molto mosso tranne il golfo di Corigliano sotto costa che sarà mosso venti occidentali forti su tirreno moderate o forti su Ionio per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito www.cosenzameteo.it dove potrete anche monitorare in tempo reale le condizioni meteo grazie a una fitta rete di stazioni meteorologiche dislocate sul territorio da consultare anche su mappa territoriale interattiva la puntata di oggi termina qui grazie e arrivederci con il meteo è tutto non ci sono altre notizie grazie per averci seguito e buona continuazione con i nostri programmi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti